Buongiorno direttore, eccoci qua anche oggi puntata molto densa, due le notizie che sono da leggere sui giornali di oggi, la prima quella di cui abbiamo parlato con i telespettatori, l'IKEA che dice basta ai politici che premono per far assumere i raccomandati, la seconda quella di Emilio Fede che viene respinto da una banca svizzera. Ma com'è successo? Perché? Una banca svizzera che non vuole due milioni e mezzo, ma che cosa è? Il mondo non c'è. Infatti lei che ha una lunga esperienza, mai sentito una cosa di questo genere? Mai, mai, mai. È eccezionale, siamo veramente un grande paese, abbiamo dei talenti. Allora, aspettate perché Ardemagna è un'ipotesi. Allora, le avrà vinte al casino, intanto questo umorismo... Ma lui perde al casino, ma quale vince? Guardate che Emilio stava ai Rai tanti tanti anni fa, lui il casino perde, come tutti i giocatori d'altronde, d'altronde come tutti i giocatori, perde, perde, uno dei problemi della sua vita è che perde al casino, quindi i due milioni e mezzo vengono da un'altra parte, magari ha venduto una villa pure lui come Dell'Ultri, ma non credo, non credo che... Magari l'ha venduto a un suo datore di lavoro, non si sa, non si sa, è una notizia però... Non si capiva da dove venivano i soldi. No, no, è una notizia che è incredibile. No, Ardemagna, stiamo dicendo che è una notizia... No, no, io non vi seguo, non vi seguo. No, si ricorda che già ieri, direttore, ne abbiamo parlato... Come no, come no? E abbiamo accennato a quest'ipotesi... Eccolo qua. Allora, ieri aveva messo un affisce su questa cosa, Secchi, poi anche Nostradamus l'aveva seguita e oggi libero, libero si vota ottobre, abbiamo testato con De Predicto che ha confermato che Monti potrebbe non mangiare la cassola, che è un tipico piatto tardo-autunnale, inizio-invernale della Lombardia, che consiste, ricordiamolo, perché non ha vezi, in puntine di maiale, le costine di maiale con le verze. Piatto tipico, leggero, come può capire, ovviamente, direttore. Affosserebbe qualunque governo. Ma certo, ma certo. Piatto che va cucinato lentamente, plup, 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 deve fare così. C'è stata anche l'unità ritrovata del PD, unità sono parole forti. Ma avete visto che grafica straordinaria che c'era in 2.24? Voi lo evocate e subito arriva libero con il robot Monti, solo la testa e Bersani che stacca la spina. Allora. Eccolo lì. Dicevamo, la ritrovata unità del PD, unità sono parole forti, visto che le dichiarazioni tutti quelli che uscivano dalla direzione ieri andavano invece da altre parti e in direzioni contrarie e contrapposte. La Bindi diceva che bisogna scendere in piazza, Fioroni diceva che è meglio stare zitti alle volte e non parlare. Io ho trovato molto divertente sul Corriere, mi pare l'Amelie che a un certo punto dice che nel PD si vocifera di una spectre che vuole dividere il PD. E io ho letto questa cosa stamattina e pensavo che c'è bisogno di evocare la spectre, se dividono benissimo da soli. E' la cosa che fanno meglio. E' certo. Però secondo me qualcosa è successo ieri, perché mi diceva il nostro inviato che addirittura Massimo D'Alema è intervenuto dicendo che sono d'accordo con Veltroni. Allora lì sarà pure un... Si moltiplica nel segnale dell'Apocalisse. Sarà pure una concordia per interesse. Però insomma sia Bersani che D'Alema hanno detto guardate se ci volete, se volete la nostra pelle noi siamo pronti a votare, questa è una posizione che viene ritenuta forte e tutti gli altri hanno detto sì 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 sì. Poi c'erano anche diciamo le cose che avete visto sulla Repubblica di Mannheimer di ieri. Quindi qualcosa in realtà lì è successo, bisogna vedere quanto dura. Fra l'altro se permettete, poi vi ridò la parola, per dirvi che qualcosa è cambiato. Non è proprio vero che tutti uscivano e dicevano la stessa cosa. Vi segnalo per esempio che i giornali come Libero, come il giornale, presentano i chino come il buono completamente contrapposto alle posizioni estremistiche della CGL che poi si fa egemonizzare dalla FIOM che si fa egemonizzare da chi volete voi. E invece i chino sull'articolo 18 ieri ha detto, sentiamo. Esatto. Il punto deve essere che là dove sotto un motivo economico si nasconda un motivo discriminatorio, di rappresaglia o anche un motivo disciplinare che non viene esplicitato come tale, lì il giudice deve poter intervenire anche se il motivo economico è stato enunciato dal datore di lavoro come unico motivo del licenziamento. Benedetta, qui c'è un professore che critica la professoressa. Scontri tra titani. La posizione completa di Chino si trova sul suo blog, ci sono 8 punti a favore e 4 contrari alla riforma. Lui fa sempre queste cose. Oggi a proposito di riforma del lavoro abbiamo anche sentito una sociologa dell'ISFOL che è uscito con un comunicato, è l'ente di ricerca autonomo che è chiamato anche a vagliare poi quelli che sono gli effetti di una riforma del lavoro come questa. Ebbene, il problema è che il Ministero del Lavoro invece vuole chiudere l'ISFOL e creare un'agenzia dipendente per cui i lavoratori dell'ISFOL, li abbiamo sentiti stamattina, fanno presente. Attenzione, perché comunque l'indipendenza della ricerca è un valore da tutelare, altrimenti che garanzie ci sono di avere dei contrappesi e delle verifiche degli effetti sul medio periodo di una riforma di grande impatto come questa. Ci sono tante cose. È nelle pieghe del testo in discussione della riforma del lavoro l'abolizione anche di questo ente pubblico di ricerca. Per cui ci sono veramente tante cose da andare a vedere nel dettaglio. E vediamo come va a finire. Oggi poi, direttore, la vita delle persone rischia di cambiare perché arriva la busta paga e quella di marcia è la prima busta paga più leggera, quella con l'effetto delle manovre. Alcuni l'hanno già aperta ieri, hanno trovato il sorpresino dell'addizionale IRPEF, qualche decina di euro nella maggior parte dei casi, 30, 40, 50, 60, 70 euro. Si arriva fino a 90, credo, no? E allora, sulla nostra pagina Facebook per tutto il giorno Caterpillar AM si può andare e dirci quanta è la vostra busta paga. Però attenzione, direttore, perché oggi è una puntata speciale. Oggi qui a Caterpillar AM, a Rai News, abbiamo pronta una sorpresa perché abbiamo la prima scenografia mobile della storia di Rai News. Benedetta dice sposami. E di Radio 2 anche. E allora, direttore, guardi cosa l'abbiamo preparato. Eccezionale! Lo conoscevamo di Sgrilli, incredibile. Direttore, siamo pronti per Sanremo, vede? Buongiorno, direttore! Buongiorno, che piacere! Lo conoscevamo come comico, è un grande cantante, Sergio Sgrilli. E il brano si chiama Sposami. Ho chiesto un coro e ho costretto a cantare. Siamo pronti. Amore, accetta il mio cuore. Ancora. Ti prego, non fargli del male. Sapesse la fatica che fa Benedetta. Insieme. Amore, accetta il mio cuore. Non è difficile. Ti prego, non fargli del male. Era una dichiarazione, si chiama Sposami, lei ha detto di no. Ha detto di no, allora un grande applauso, questo bacio poi è fondamentale e mi pare che proprio ci siamo sempre di più. E ci lasci ringraziare anche... Io poi dovrò spiegare anche questo al direttore generale, al vice direttore generale Marano, che dice ma che cosa c'entra la canzone con le notizie. E' informazione musicale. Io che sono un vecchio, penso che le notizie siano tutto. Ma insomma, vedremo. Vedremo, vedremo perché ora si ne parla il Consiglio d'Amministrazione. Magari prossimamente avremo notizie solo in doppio petto, solo notizie, solo buone. E noi andremo a fare... Facciamo zelli, che cosa facciamo? Abbiamo un piano B, Benedetta. Abbiamo tutto, direttore. Abbiamo anche le vignette. Abbiamo anche le vignette. Allora, intanto vi faccio vedere chi c'è oggi, perché non è né Lorenzo Della Splasas, né Laura Bangherlini, ma niente di più che Iman Zabbà. Eccola. Iman Zabbà. Allora, Cinzia Poli, l'amica risanata. Eccola là. Al summit sulla sicurezza nucleare, Obama ha detto, abbiamo più missili del necessario. E con cosa vorrebbe scambiarli? Come le figurine. Con le figurine. Ah no, direttore, grazie. A proposito di Radio 2, ieri ho sentito una straordinaria puntata di Alcatraz, no? Che mi ha dato una notizia che mi era sorgita. C'era un'associazione di consumatori, che non citerò, così, Bertigna. che si è inventata, che si è inventata addirittura una campagna contro Tex Wheeler, il famoso fumetto, perché Tex Wheeler fuma. E allora Alcatraz naturalmente si è divertito. Con l'idiozia di questo tipo di campagna. Parecchio, eh. Grazie. Allora, dopo la pubblicità, Iman Zabbà. Arrivederci. Arrivederci.